ben ritrovati con la rassegna stampa questa è la prima edizione di oggi in studio con voi rosario Moreno coronavirus il monitoraggio dell'ISS scrivono si va verso lo scenario 4 il rischio elevato in 11 regioni considerino nuove restrizioni più dure il monitoraggio settimanale indica la capacità di trasmissione del virus l'RT a 1,70 a livello nazionale invita le regioni a valutare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione altre altre otto aree del paese sono a rischio moderato con elevata possibilità di migrare nel rischio alto entro il prossimo mese raddoppiano i casi sintomatici e si osserva una sempre maggiore difficoltà a reperire dati completi a causa del grave sovraccarico dei servizi territoriali e questo potrebbe portare a sottostimare la velocità di trasmissione così la Germania già si prepara a distribuire il vaccino covid un piano con almeno 60 centri regionali allo studio l'uso delle fiere e due app la Germania come fece in primavera per i tamponi sta studiando in anticipo per affrontare al meglio la sfida logistica delle vaccinazioni il ministro della salute james fan ha scritto a islander entro il 10 novembre devono indicare le strutture ad hoc a cui verranno spedite le dosi non appena ricevuto l'autorizzazione solo nella capitale berlino ce ne saranno da 10 fino a 15 ufficialmente il via libera è previsto a inizio 2021 ma la build ha svelato che in una riunione privata si è parlato della possibilità di cominciare già entro fine anno firenze e scontri con la polizia durante la manifestazione non autorizzata contro il dpcm 20 fermati e diversi agenti feriti prima dei disordini manifestanti tra antagonisti estremisti di destra annullato slogan e corri contro il presidente del consiglio giuseppe conte e acceso alcuni fumogeni in piazza del duomo il sindaco nardella ha detto una minoranza di persone venuta intenzionalmente per provocare per cercare gli scontri ha messo a dura prova la nostra città blocco dei licenziamenti l'annuncio di conte prorogato fino a marzo diamo un messaggio di sicurezza a tutto il mondo del lavoro il presidente del consiglio va a incontro ai sindacati ma anche a confindustria le ulteriori 12 settimane di cig covid che accompagneranno il divieto saranno gratuita anche per le aziende che non hanno subito cali di fatturato il viale dell'astronomia scrivono il viale dell'astronomia scrivono che la broroga del blocco per ragioni di emergenza è giustificata se per le imprese che utilizzano la cassa l'accesso non prevede alcuna contribuzione lockdown per gli anziani non è facile come sembra 3,2 milioni vivono con familiari il geriatra dice che effetti drammatici perché solo la proposta lanciata da un gruppo di economisti usa durante la prima ondata raccoglie sostenitori ma anche chi promuove l'idea ammette che c'è un problema logistico in campania 362 over 65 vivono con figli e nipoti in lombardia 480 mila e va considerato l'impatto su psiche e fisico marco trabucchi presidente dell'associazione italiana di psicogeriatria avverte che l'isolamento primaverile ha già aumentato depressioni e conseguente decadimento fisico anche gravissimo notizie da napoli e dalla campania whirlpool sms agli operai si chiude domani per protesta de magistris spegne il comune è arrivata via sms la comunicazione dell'azienda agli operai whirlpool di napoli riguardante la chiusura della fabbrica di via argine il testo è quello della comunicazione resa nota noi lo abbiamo appreso dagli organi di stampo in cui si parlava di lettera ai dipendenti fanno sapere gli operai solo adesso l'azienda ci ha mandato un sms per dirci che dal primo momento dal primo momento possiamo starcene a casa insomma è vergognoso dicono addio a michele silenti morto in un incidente stradale alla renaccia aveva solo 35 anni michele silenti il giovane investito e ucciso appunto in via renaccia insomma piazza luigi poderico il giovane stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno da un'auto insieme a lui c'era una ragazza investita anche dall'auto è rimasta ferita non è ancora chiara comunque la dinamica di fatti sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia municipale alla guida del veicolo che ha ucciso il giovane c'era un 59enne l'uomo è stato fermato dagli agenti della municipalizzata e dalla municipale dalla municipale scusatemi per sottoporla ai test di routine il corpo del giovane è rimasto sull'asfalto fino a poco prima delle 20 quando è stato portato via dalle onoranze funebri coronavirus un morto a torre annunzata a 20 nuovi casi 20 nuovi casi come dicevamo da covid-19 sei guarigioni a contempo si registra un altro decesso 136 cittadini attualmente positivi 138 posti in isolamento domiciliari e 8 ricoverati presso il covid center della regione notizie dal friuri venezia giulia botto nella notte a capriva in assalto al banco mati malviventi hanno fatto deflagrare lo sportello automatico poco prima delle due ingenti danni e il bottino un forte botto poco prima delle due e di questa mattina ha svegliato le famiglie che vivono in via verdi a capriva del friuli molti hanno temuto si trattasse di un incidente stradale alcuni residenti sono usciti dalle loro abitazioni rendendosi conto che si trattava di un assalto al banco matta coronavirus 505 nuovi contagi e 7 morti in friuli venezia giulia continua a salire il numero di positivi che raggiunge che raggiunge un picco un nuovo picco in 6.017 i tamponi eseguiti oggi per esempio ieri scusatemi queste notizie si riferiscono a ieri in friuli venezia giulia sono stati rilevati 500 nuovi contagi a fronte di 6.107 tamponi eseguiti e ci sono stati come dicevamo 7 decessi da covid-19 si tratta di una donna di 83 anni di trieste morte in ospedale una 93enne di trieste decedute in una residenza per anziani un uomo di 78 anni di tolmezzo morto in una casa di riposo una 94enne di sappada decedute in ospedale a udine un 83enne di tercento morto in ospedale a udine un 74enne di udine decedute in ospedale a udine e infine un uomo di 98 anni di sequals morto in ospedale a pordenone lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute riccardo riccardi manovra sbagliata tir resta incastrato in curva è successo a trieste i vigili del fuoco con un autogru hanno liberato il mezzo una manovra sbagliata in curva il mezzo pesante resta incastrato è successo a trieste lungo via del perarolo all'altezza del civico 19 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale con la prima partenza e l'autogru per liberare il camion e quindi ripristinare la viabilità comunque nessuno è rimasto ferito locale aperto oltre le 18 multata la titolare dopo le 19 una volante della polizia di stato di trieste ha scoperto all'interno due clienti che giocavano al videopoker dopo le 19 15 è stata una violazione alle norme anti covid inserite nel dpcm del 25 ottobre che impongono la chiusura del locale alle 18 una volante della questura di trieste è quindi impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato che all'interno di questo bar di via dal viano due avventuri stavano giocando al videopoker la titolare è comunque è stata multata bene cari amici con questo è tutto termina qui questa prima edizione della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione